Cosa hanno in comune un astronauta, chi va di fretta e un lattante? Inutile tenervi in sospeso perché se state vedendo questo video sapete già di cosa stiamo parlando, dei liofilizzati. Ciao, sono Andrea di autosvezzamento.it. Quando arriva il momento dello svezzamento viene spesso consigliato di iniziare dal liofilizzato in quanto è più digeribile, maggiormente dosabile, più sicuro, ecc. In questo video approfondirò con voi cosa c'è di vero in questi claim per capire meglio se il consiglio di usare questo prodotto abbia un significato oppure no. Prima di iniziare però, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e cliccate sulla campanella per assicurarvi di ricevere tutti gli aggiornamenti. Pronti? Via! L'aliofilizzazione è un procedimento davvero complesso, è un mix tra sorgelamento a bassa temperatura e dessiccazione e il prodotto finito è una polverina più o meno granulosa. Questo genere di prodotti non è certo da pannaggio esclusivo della prima infanzia o degli astronauti in quanto sono tantissimi gli alimenti che vengono generalmente sottoposti a un processo di liofilizzazione, tra cui caffè, camomilla, succhi di frutta, tè, patate, frutta esotica, farmaci, prodotti dietetici, ecc. Tra gli esempi di utilizzazione ricordiamo il caffè istantaneo, il mangime per pesci, gli ingredienti per la preparazione di zuppe e piatti pronti e così via. Uno degli utilizzi più interessanti grazie al fatto che gli alimenti liofilizzati occupano poco spazio, sono a lunga conservazione e mantengono intatte le loro proprietà nutritive e organolettiche è proprio quello di andare in orbita con gli astronauti. Dato che le missioni possono durare anche molti mesi durante i quali non è possibile ricevere approvvigionamenti, i liofilizzati rappresentano senz'altro una scelta pratica ed efficace. Però se non dobbiamo andare in orbita è ancora sensato mangiare cibo liofilizzato? Un prodotto made in Italy In Italia gli liofilizzati per lo svezzamento vengono prodotti dalla Mellin e dalla Plasmon, che io sappia non esistono altri produttori. Mellin e Plasmon sono marche esclusivamente italiane, ma sono controllati da due multinazionali rispettivamente la Danone francese e la Heinz americana. Guardando agli altri brand appartenenti a questi multinazionali, sono davvero in tutto il mondo e vendono di tutto, nessuno sembra avere baby food liofilizzati in catalogo. Inoltre, nonostante gli sforzi, ma forse bisognava solo cercare meglio, non sono riuscito a trovare altri paesi nel mondo in cui le linee di baby food includono prodotti liofilizzati. Esaminare tutti i paesi e tutte le marche e sottomarche esistenti non è possibile, per cui ho controllato più o meno random in Europa, Nord America, Sud America e Australia, ma senza trovarne traccia. Quello che ho trovato è un paio di siti web americani di nicchia che producono cibi liofilizzati per bambini metto il link nella descrizione del video se gli volete dare un'occhiata. Da notare che l'enfasi non è come in Italia sul cibo in cui iniziare o facilmente digeribile o sul fatto che la carne sia importante, ma sulla praticità e la varietà. Di fatti vendono solo frutta, anche esotica, e vegetali liofilizzati o cose come la quinoa in polvere. Insomma, si rivolgono a un pubblico molto di nicchia. In ogni caso, se chiedi a una persona di lingua inglese cosa sa di liofilizzati per la prima infanzia, ti guarderà con uno sguardo perso. Ho chiesto a genitori madrelingua inglese che vivono o hanno vissuto in Italia, nonché a del personale sanitario del Regno Unito e in America, ma nessuno ne sapeva niente. Quindi il liofilizzato di carne, che per alcuni di noi rappresenta un'indispensabile tappa nella crescita dei bambini, è un prodotto esclusivamente nostrano che sembra non esistere al di là dei confini italiani e anche in Italia non è facile da trovare. Le varietà di liofilizzato di carne disponibili al momento sul mercato sono le seguenti. Plasmon, agnello, coniglio, pollo, tacchino, vitello. Mellin, come la Plasmon, ma in più ha il manzo. C'era anche liofilizzato di struzzo e di cavallo, ma sono stati messi fuori di catalogo. I costi. Entrambe le marche vendono solo confezioni contenenti tre vasetti da 10 grammi l'uno. I prezzi, proprio come nel caso degli omogeneizzati, variano moltissimo. Quelli che ho visto io variano da poco meno di 4 euro a oltre i 6 euro per confezione. Dando per scontato che questo genere di articoli si acquisti solo quando in offerta speciale prende in considerazione un costo basso di 4 euro, ma poi potrete scalare le cifre senza problemi. Facendo due conti vediamo che questo olifilizzato a 4 euro per confezione costa circa 133 euro al chilo. Però sappiamo che sono un prodotto per così dire concentrato. Quindi cosa vuol dire in effetti questo costo? Sia la Plasmon che la Mellin affermano che 100 grammi del loro prodotto equivalgono a 220-240 grammi di carne fresca. Per semplificarci la vita diciamo che 100 grammi di olifilizzato equivalgono a 230 grammi di carne. Quindi comprando carne in forma olifilizzata equivale a pagare quantomeno 58 euro al chilo circa, indipendentemente dal tipo. Per fare un paragone, in rete c'è un sito dove si vende il filetto di bovino bio, probabilmente il taglio più caro tra quelle a disposizione, al prezzo di circa 47 euro al chilogrammo. Se invece vogliamo prendere un coniglio, uno biologico già pulito costa meno di 16 euro al chilo circa. Inoltre non si riesce a scoprire quali pezzi di carne vengono utilizzati per farli olifilizzati. Ad esempio un manzo è un bel bestione. Per fare il olifilizzato scelgono il filetto, il girello, la lingua, la carne che useremo per il brodo, un misto di tutto ciò o gli scarti. E chi lo sa. E' chiaro che il prezzo è determinato non dalle materie prime ma dai costi di produzione, imballaggio, movimentazione e delle pubblicità. Anche sulle modalità di preparazione c'è molta recenza. Ho chiesto ai produttori e ho ricevuto solo risposte educate ma fondamentalmente invasive. Il produttore di cibo industriale, tra cui il baby food, vuole venderci a tutti i costi l'immagine di oesi in cui gli animali pascano liberamente al suono di campanella appeso al collo e di processi quasi artigianali dove solo ed esclusivamente i pezzi migliori di carne vengono scelti individualmente per assicurarci che solo il meglio finisca sul piatto dei nostri bambini. Ma questo è solo un bel sogno. Intendiamoci, non si vuole certo sottintendere che ci sia qualcosa di non idoneo in questi prodotti, ma se vedessimo i processi produttivi per quelli che sono probabilmente fabbriche dove tutto è meccanizzato, pezzi di carne random che finiscono nei vasetti, processi di lavorazione della carne industriali che non hanno nulla a che fare con l'immagine idilliaca del macellaio di fiducia che ti affetta la carne proprio come piace a te, non credo che le vendite salirebbero. Tuttavia, tutte queste considerazioni sono secondarie, in quanto la domanda chiave a cui dobbiamo poter rispondere è, a cosa servono gli orifilizzati? I produttori e alcuni pediatri affermano che vadano usati all'inizio dello svezzamento perché più digeribili, ma anche se così fosse, servono per davvero? Se qualcosa deve essere trattato industrialmente in modo così profondo per renderlo digeribile, forse sarà meglio attendere prima di introdurlo nella dieta del bambino in quanto il suo corpo evidentemente non è ancora pronto a riceverlo. Sappiamo quando l'intestino di un bambino è pronto a gestire qualcosa di diverso dal latte, ne abbiamo già parlato in altri video, ma in breve in un articolo autorevole si afferma che «dall'età di 4 mesi le funzioni renali e gastrointestinali sono sufficientemente sviluppate per metabolizzare i nutrienti dai cibi complementari». Dico subito che ciò non equivale a dire che il bambino sia necessariamente pronto sotto altri punti di vista. Nell'articolo non si dice da nessuna parte che gli alimenti devono essere preparati in modo speciale, né che debbano essere facilmente digeribili, anzi affermano che l'intestino matura grazie proprio a quello che si mangia. Insomma, l'intestino matura mangiando. Piuttosto gli autori si concentrano sulle varie tappe dello sviluppo motorio e masticatorio del bambino da 6 ai 12 mesi. Non viene data alcuna indicazione precisa di cosa sia adatto o inadatto mangiare, anche avviando lo svezzamento intorno ai 4 mesi. Chiaramente prima si inizia e più risulterà difficile che il bambino possa nutrirsi da solo, quindi sarà necessario dargli cibo semiliquido, se non altro per aggirare il riflesso di estrusione che fa sì che il bambino tiri fuori la lingua non appena qualcosa gli tocca il labbro. Ma cercando in letteratura, per quanto abbia letto, non viene mai consigliato di dare qualcosa di industriale, né tantomeno di facilmente digeribile come i lefilizzati. Se invece si vuole cominciare a 3 mesi, ovvero quando il bambino sicuramente non è pronto, allora forse il discorso cambia, ma in questo caso si entra in un campo prettamente medico che certamente esula dai contenuti di questo video. Lo stesso articolo prosegue dicendo che è improbabile che i lattanti europei siano afflitti da deficienze di macronutrienti durante il periodo dell'alimentazione complementare. Piuttosto c'è il pericolo che ne prendono troppi e questo è un fattore potenzialmente preoccupante visto i tassi di obesità nei bambini. Confrontate questa frase con quest'altra, che spesso viene utilizzata sui siti che vendono i lefilizzati e che credo originariamente fosse sul sito Plasmon. Grazie al processo di lefilizzazione i lefilizzati hanno un'elevata concentrazione di principi nutritivi in un volume ridotto. Per questo sono ideali se il tuo bambino ha delle piccole difficoltà ad abituarsi alle prime pappe o in caso di scarso appetito. Ovvero, invece di consigliare di assecondare il bambino o come dicono oramai tutte le linee guida a un minimo serie, si insiste sulla quantità e sull'abituarsi alle pappe, perpetuando uno dei punti cardine dello svezzamento medicalizzato secondo il quale a ogni pasto è necessario ingerire una determinata quantità definita non si sa come di ciascun principio nutritivo. In questo senso il lefilizzato è un mezzo per raggiungere un fine. Spesso la ragione che si aduce per incoraggiare l'utilizzo dei lefilizzati è che questi servono per andare per gradi, ma basta ricordarsi che per andare per gradi è sufficiente lasciare che il bambino si avvicini al cibo autonomamente, iniziando a mangiare un pochino alla volta perché lui è pronto e non perché una terza persona ha deciso che sia ora di iniziare. Comunque, anche nel caso di svezzamento medicalizzato o tabellare, i lefilizzati così come gli altri omogenizzati o il baby food in generale non è dimostrato che servono. Di nuovo, se leggete una qualunque linea guida un minimo seria non diranno mai esplicitamente che sia necessario utilizzare questi prodotti. Con gli lefilizzati, ancora di più che con gli omogenizzati, siamo senza dubbio di fronte a un'attività puramente di marketing che tanto per cambiare fa leva sulle insicurezze e sulle paure dei genitori. Dopotutto il genitore inesperto penserà cosa sono 5 euro di fronte alla salute di mio figlio. Per non parlare del classico, per i figli si fa questo e altro. Ma la rassicurazione che danno i lefilizzati è un'opera puramente di fantasia che i produttori, aiutati in questo da molti, da troppi operatori sanitari, ci vendono in comode confezioni da 10 grammi cada una. Pensate che carne di lusso, super bio e di animali che vivono in prati a 5 stelle si potrebbe comprare per 58 euro al chilogrammo. Altro che filetto. Insomma, comprando un lefilizzato non compriamo della carne, ma portiamo a casa un sogno. Ciao e alla prossima